Li vuole. Una cosa, possiamo dire che è una cosa stata fatta giusta, una, possiamo dirla che è fondamentale. Il sindaco, Nogarine, tutta la giunta e i consiglieri comunali hanno detto no al nuovo ospedale, no ai nuovi ospedali con le grandi opere inutili, no. Non abbiamo bisogno di nuovi ospedali, abbiamo bisogno che gli ospedali esistenti funzionino bene. Lì andiamo a creare occupazione perché riqualifichiamo energeticamente l'immobile, perché non andiamo a rendersi duro le confronti del rischio sismico, è lì che si crea anche occupazione e noi facciamo queste buone cose senza chiedere nulla al cambio, perché quando faremo le gare non faremo le gare dove vinceranno le solite cooperative rosse e nere, perché le buone idee devono andare avanti in modo disinteressato. È lì la svolta, l'ospedale, grandissimi, sono terrorizzati da Livorno. Ve l'ha raccontato Nogarine, no? Prima, cosa hanno fatto? Ma vi rendete corte. Ma questi non hanno nemmeno più rispetto istituzionale. Cioè è vero che noi siamo dei cittadini, però rimane sempre un portavoce sindaco che rappresenta un rapporto alla politicità. E te mi chiami a Firenze e volevi andare a Roma per firmare un accordo su Livorno? Ma te vieni a Livorno per firmare l'accordo sul porto di Livorno. Ma stiamo scherzando. Livorno! Ma cazzo! Ma incassiamoci un po'. Però mi hanno detto non fare che sennò sei di troppo grido, grido è in moderato e facciamo di tranquillo.